Procuratore, si è parlato delle possibilità di riaprire le case chiuse, le case quelle che un tempo si chiamavano le case di tolleranza. C'è stato un intervento di una ragazza bulgara per l'8 maggio al Quirinale e è rimasto basito il Presidente della Repubblica dalle sconcertanti rivelazioni di questa ragazza vessata, costretta alla prostituzione. Lei che cosa ne pensa? Perché si è riparlato di questa possibilità e non tutti sono d'accordo, si è sottolineato l'importanza della Merlin che a suo tempo chiuse queste case e come si è sottolineato il fatto che molti parlamentari contrastavano e dicevano, intanto ci sono alcune donne che nascono prostitute e così moriranno. Cosa pensa che possa io pensare una cosa del genere, visto le premesse e il discorso che ho fatto? Voglio che lei chiarisca bene il personaggio. Posso immaginare mai che si possa legalizzare la prostituzione in case chiuse? Cioè è una cosa immaginabile? Le domande le faccio io? No, nel senso che è una cosa che è assolutamente inaccettabile, anche come idea ovviamente, ma è anche pensare di normalizzare e rendere meno pericoloso un fenomeno perché si sviluppa in modo più pericoloso adesso, è una assoluta follia. È chiaro che se il fenomeno è pericoloso e lo è, attualmente dipende da tantissime cause e si può risolvere agevolmente attraverso un investimento. Un investimento di risorse, di persone che è di priorità attraverso cui agevolmente debellare il fenomeno. È molto semplice, ci possono tantissime misure, non solo ci sono le misure necessariamente giudiziarie che pur sono da perseguire, ma quelle che hanno una possibilità di essere risolutive molto modesta perché ovviamente il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, illegale e illecito è un fenomeno che non è possibile paralizzare attrestando i colpevoli perché nel momento in cui si realizza attraverso organizzazioni più o meno rudimentali, più o meno modeste, è chiaro che arrestandone uno anche se lo si dovesse tenere, cosa impossibile, in carcere per un numero di anni infinito, verrebbe sostituito da un altro. Quindi è chiaro che l'unico modo per debellare il fenomeno è mettere in sicurezza le vittime e impedire alle vittime, trovandogli un percorso alternativo, di doversi ed essere costrette a prostituirsi per sopravvivere. Questo è il concetto, ma questo vale per qualsiasi tipo di prestazione, non solo quella sessuale, ma qualsiasi tipo di prestazione anche lavorativa. Ricordiamoci che la prostituzione è uno sfruttamento di una, tra virgolette, attività lavorativa, anche se illecita. Quindi rientra nella logica dello sfruttamento del lavoratore. Rientra nello stesso meccanismo. Laddove ci sia una disattenzione rispetto a una, peggio mi sento talora, una connivenza rispetto a questa realtà, è evidente che questa realtà fiorirà. Come lo sfruttamento del lavoratore fiorisce in una realtà economica che si fonda sullo sfruttamento del lavoratore, è evidente che ci sarà una fioritura anche dello sfruttamento delle prestazioni, tra virgolette, molte virgolette lavorative, che hanno contenuto sessuale. Quindi questo è un dato fondamentale, non ci vuole, ci sono stata di priorità. Se ci fosse veramente questa priorità, anzi che legalizzare il fenomeno in modo scellerato, basterebbe impegnarsi affinché ciò non accada. Ed è sufficiente un impegno economico significativo, un impegno di risorse personali e umane e anche, soprattutto, finanziarie per debellare il fenomeno. Io faccio un esempio. La presunzione, in realtà, sostanzialmente, è una, tra nei rarissimi casi, quella che noi conosciamo, è una violenza sessuale fondata sulla debolezza della persona e quindi sul fatto che la persona stessa è costretta a svolgere l'attività sessuale e quindi prostituirsi. Quindi è una forma di violenza sessuale, attraverso la costrizione psichica. Ovviamente chi va con una prostituta e chi fruisce di questa prostituta sessuale può non rendersene conto o può disinteressarsi, però certamente il meccanismo è questo. È normale. Il meccanismo è questo. Quindi, giammai ritengo che possa pensarsi di normalizzare e legalizzare una violenza sessuale fondata su una situazione di soggezione economica che rende ineludibile la vendita del proprio corpo. Non è pensabile, non è assolutamente concepibile. Dunque, se io proponessi a una vittima di violenza sessuale, perché questo è, un futuro di indipendenza economica e di sostegno, è evidente che il 99% delle persone non si prostituirebbero. Si prostituirebbe soltanto la persona che non si interessa soltanto di non avere una vita accettabile o economicamente sostenibile, ma vuole diventare ricca. Allora, in quel caso sarebbe l'unico caso rarissimo di prostituzione realizzata a scopo di arricchimento. Basta. Ma sarebbero dei casi talmente minimi, dal punto di vista statistico insignificanti, dall'essere non considerati, ovviamente. E la maggior parte dei casi è necessario un sostegno. Anche qui, se ci fosse una rete da parte delle persone che solidarizzassero rispetto a queste situazioni, anziché ghettizzarle o comunque ridurle alla normalità e alla patologia, certamente il fenomeno sarebbe estremamente ridotto. E' chiaro che il problema poi qui si collega anche all'inevitabile razzismo, ovvero xenofobia, perché vi è anche questa componente, che fa sì che siccome questo fenomeno interessa principalmente stranieri, perché questa è la realtà, per lo più sono stranieri, è chiaro che lo straniero viene visto diverso da sé e quindi è meno, è più tollerata la stessa prostituzione. Tanto che non diventa intollerabile per il fatto che vi sia, ma è intollerabile il fatto che si svolga sotto casa mia. L'intollerabilità non è il fenomeno, è che io lo veda, è che mi crea disturbo, è che mi crea documento o fastidio alla mia visione. Quindi è chiaro che se il fastidio è perché le vedo per strada, è un fastidio che non dipende dal fenomeno in sé, è dalla preoccupazione e dello sfruttamento che vi è. E' solo una questione riguardante al fatto che esteticamente è insopportabile. Da fastidio. E quindi alla fine sostanzialmente basterebbe una comunità, una società che investisse ovviamente più fondi per evitare tutto ciò. E lo so, siamo sempre lì, siamo sempre lì. La uscione di priorità. E certo. Come giudica, come risolverebbe la questione gravissima che c'è a Castelvolturno? A Castelvolturno sembrano che siano perpetrati tutti i reati, droga, traffico d'armi, prostituzione, tratta degli esseri umani. Cioè, là c'è una situazione veramente gravissima di minori, sia femminucce che maschi, 14-15 anni, c'è la mafia nigeriale che li preleva dai propri paesi, li paga pochi soldi o addirittura li rapisce, li mette sulla strada. I maschietti per sedare gli appetiti sessuali dei pedofili. Dopo poco, quando perdono la PIL, che sono giovani, sono donatori di organi. Può anche capitare questo. Ecco, i procuratori, molti giudici di Santa Maria Capovetere si interessano proprio, hanno tra le mani molti processi riguardanti questa tratta di queste ragazze. Qui non entro in materia perché la prostituzione minorile è competenza distrettuale, competenza dal punto di vista giudiziario, della procura di Napoli. Lo domando a lei perché sono comunque fasce deboli. Le tratta di schiavitù, ugualmente, la tratta di riduzione di schiavitù è competenza sempre di Napoli. Il fenomeno della possibile eccessione di organi rientra nell'ambito di quella che è la riduzione di schiavitù e quindi rientra in una competenza altrui, non nostra. Quindi noi non abbiamo formalmente casi, perché non li possiamo avere, casi di questo tipo. E quindi non conoscendo il dettaglio, perché chiaramente si tratta di conoscere i dettagli quando si deve parlare. Se no di esperienze, diciamo così, per sentito dire, o indirette, non sono giuste. Ma molti giudici di Santa Maria si interessano di queste... Prostituzione minorile non è competenza di Santa Maria Capometre, quindi soltanto a livello del tribunale di Santa Maria Capometre, laddove sia consumato nei territori di Santa Maria Capometre. E quindi solo a livello del tribunale. Invece per quanto riguarda le indagini riguardano principalmente, o esclusivamente anzi, il pubblico di DDA di Napoli e o la procura distrittuale sempre di Napoli, competenza per i dati di costituzione minorile, e quindi i GIP del tribunale di Napoli. Quindi stiamo parlando di una competenza, diciamo, riguardanti le indagini che coperte, ovvero ostensibili... Io non volevo sapere di particolari, volevo sapere che comunque sono persone deboli, fasce deboli. È una precisazione perché di certi fenomeni, è una precisazione fondamentale, perché di alcuni fenomeni si può parlare con modo compiuto e preciso soltanto conoscendo. Allora, chiaramente la conoscenza diventa dall'indagine, in un caso mio, evidentemente, al di là di leggere i giornali, la mia conoscenza può fondarsi soltanto nelle indagini. E in questo caso non possiamo fare indagini in questo momento, in questo materia. Quindi praticamente questo specifico settore, in particolare la prostituzione minorile, non è toccato dalle nostre indagini. È evidente che lei lo dà come assodato, che ci sia un fenomeno di prostituzione minorile, di minori maschi o femmine che siano, è rilevante. A Castelvolturno io trasecolo, nel senso che se avessi la possibilità di fare indagini in questo caso, non so, farei di tutto ovviamente per poter eliminare questo fenomeno, io do per scontato che se esiste è un fenomeno certamente ridotto, è in doppio scontato che chi deve fare le indagini le faccia. Perché chiaramente la prostituzione minorile è inconcepibile e non può essere accettata. Non può essere accettata, però non può essere accettata neanche dal cittadino normale, nel senso che se io viaggio su una macchina e vedo una persona che apparentemente è un minore o so informazioni sul fatto che un minore si prostituisce, al di là del fatto che non vi è un obbligo sanzionato penalmente di denunciare questo fatto, ma veramente se io ho questa contezza e non denuncio un caso del genere, provocandoli al primo caso a chiamare subito i carabinieri, veramente non è meritevole di considerarsi componente della società. Quindi se chiunque giornalista o altro ha informazioni di questo tipo, oppure un semplice viandante che passa con la macchina e vede una persona che apparentemente è minore, se non chiama immediatamente i carabinieri e se non fa di tutto per poter impedire questo fenomeno, si comporterebbe in un modo certamente inaccettabile, dal punto di vista morale, al di là della rilevanza penale delle condotte. Quindi dopo è scontato che se fosse un fenomeno così marcato, così presente, dovremmo essere subissati di segnalazioni. Se ciò non fosse perché il fenomeno è presente, ma non viene segnalato da nessuno, allora veramente dovrei fortemente sospettare sulla indecenza dell'essere umano. Certo, ma ritorniamo sempre all'omertà e al far vedere e girarsi dall'altra parte e far vedere di non aver visto. Guardi, no, ma non è un'omersione di umertà. E se lei dice chi è che va? Se si dovesse arrivare a una situazione tale per cui un minore viene sfruttato sessualmente, ovvero peggio ancora, si trovi in condizioni diciamo anche peggiori di questa, e la società non agisce come chiunque farebbe, allora francamente diciamo che sarebbe una società persa. Quindi io non so queste informazioni sui minori che si prostituiscono da dove, tra virgolette, possono arrivare o come siano così massificate. Certo è che se sono informazioni di alcune persone, vuol dire che alcune persone, anziché fare quello che dovevano fare, hanno rappresentato i dati a persone non qualificate. Perché è chiaro che se un giornalista dovesse, faccio l'esempio, se un giornalista dovesse dire, mi ha detto tizio che quella persona si prostituisce, il giornalista dovrebbe dire, no, mi fermo, non lo considero fonte riservata, vado direttamente dai carabinieri e gli dico, quel tizio, persona fisica specifica, mi ha detto questo. È vero che i giornalisti hanno la possibilità di avere fonti riservate, però io do per scontato che dove ci sia un fatto grave, così grave, a quel punto se la persona non denuncia direttamente la fonte diretta, a quel punto lo è il giornalista che chiama in casa la fonte diretta. No, io ne ho parlato anche con altri suoi colleghi di questo fatto. Lo dico perché, perché chiunque vede un bambino, un ragazzo o un minore in una situazione di potenziale sfruttamento sessuale o sfruttamento di altro tipo, se non denuncia immediatamente il fatto, o addirittura, io dico, al di là di denunciare, interviene direttamente, prende il bambino, lo prende e lo porta via. Così si dovrebbe fare. E se non è in grado neppure di fare questo, perché i bambini sono figli di tutti, di tutti, quindi è uguale a mio figlio. Se non è in grado di fare questo, vuol dire che non è in grado di farlo neanche col figlio. Perché non puoi diversificare, differenziare un bambino da tuo figlio. Allora, se un genitore non è in grado di fare neanche questo, cioè difendere il proprio figlio, non merita di esserlo. Certamente. Genitore. Certo. Signor Procuratore, che ne pensa del fatto della proposta di legge di punire severamente quelli che diffondono filmati hot a sfondo sessuale senza consenso? Perché si pensa di bloccare questo fatto con multe salatissimo oppure con reclusione da uno a cinque anni e sarebbe da avvisare anche i ragazzini, quelli che vessano le ragazzine, perché al giorno d'oggi, ai miei tempi, c'era il corteggiamento, c'era tutto un iter prima di concedere la propria stima al ragazzino o al corteggiatore. Adesso invece la prima conoscenza è l'atto sessuale e non si conoscono neanche, non sanno neanche come si chiamano e fanno sesso. Poi sono ricattate e quindi ragazzine ad Aversa proprio, qualche anno fa, una ragazzina rubava in casa, rubava dei gioielli dei famigli, rubava i soldi al papà, all'ultimo non ce l'ha fatta più, ha confessato ai carabinieri, ha confessato ai genitori e si è liberata. Queste cose non possono capitare. Può darsi questo sia un limite, un blocco? Adesso la norma penale sanzionatoria di condotti di questo tipo, cioè di diffusione di materiale pornografico, comunque non autorizzato, dati sensibili che riguardano una persona, comunicazione e diffusione, è già sanzionata penalmente. La sanzione penale è, tra virgolette, modesta, non è altissima, ma non difficilmente può arrivare a pene così elevate da essere scoraggianti. Quindi, comunque, per quanto lo si possa elevare la pena, più di tanto non sarà possibile. Quindi temo che qualsiasi sia la sanzione non possa essere scoraggiante un comportamento di diffusione, soprattutto quando il comportamento di diffusione di materiale di questo tipo non è facilmente suscettibile di far identificare l'autore. Premesso questo, ci sono due regole di condotta che purtroppo adesso, quando mi capita di parlare con i ragazzi, cerco sempre di cercare di dargliele come comportamento proprio basilare del proprio modo di relazionarsi. Allora, praticamente sono due possibilità, sostanzialmente, senza entrare qui in questione sulla libertà sessuale di ognuno, però chiaramente vi è poi la possibilità che una persona abbia relazioni sessuali con un'altra persona e venga ripresa alla sua insaputa. Questo è un caso e quindi su questo caso è difficile, ovviamente, potersi proteggere, perché se ti relazioni sessualmente con una persona e una persona installa un apparato di videoregistrazione invisibile, sostanzialmente è impossibile avere difesa. Quindi, e chiaramente non puoi neanche pensare di dire non avere relazioni sessuali con nessuno, perché in questa eventualità, perché non è concepibile chiaramente poter operare con cautela in modo tale da annientare ogni relazione fisica nell'ipotesi che qualcuno possa diventare. Ok, quindi questo è il primo dato e quindi su questo caso nulla si può dire alle persone che si relazionano con altri venendo riprese da loro insaputa. Cosa diversa, completamente diversa ovviamente, è chi, al di là del fatto che abbia relazioni sessuali con una persona, chi divulghi ad altri proprie immagini, quindi proprie foto nude o nuda oppure parzialmente nuda, accattivanti, ovvero addirittura anche foto che ritraggono con rapporti sessuali con persone, ovvero semplicemente anche comportamenti sessuali autonomi. Anomoli. Autonomi, nel senso che capita, purtroppo la diffusione degli strumenti di comunicazione sta prendendo talmente piede che spesso accade che vengano considerati normali questi comportamenti. Quindi sia normale anche ipoteticamente mandare a un fidanzatino, parlo dei ragioni che sono più a rischio in questo caso, ovvero anche un partner, fotografie riproducenti la stessa persona, la persona stessa nuda. Ora, questi sono comportamenti che non potranno mai essere esclusi perché fanno parte, tra virgolette, delle relazioni umane, quindi non bisogna neanche ipotizzare che siano totalmente da escludere, però certamente devono essere fatti con un'estrema moderazione, perché perdere il controllo delle proprie immagini, soprattutto nei casi in cui vi siano comportamenti suscettibili di essere divulgati e quindi che possano sostanzialmente portare danno alla propria onorabilità o alla propria riservatezza, è chiaro che devono essere ridotti al minimo. Certamente non bisogna insegnare ai giovani, tutti quanti, che non si devono mai fare foto nude, mai mandarle neppure alle amichette, perché teoricamente c'è il pericolo anche non degli uomini, ma anche delle donne, perché queste fotografie o immagini o video si perde completamente il controllo di queste immagini e quindi può accadere qualsiasi cosa. Tra le altre cose che possono accadere è il ricatto a fini patrimoniali o spesso a fini sessuali legate al fatto di non divulgare la foto e quindi ottenere ulteriori prestazioni economico-sessuali. E' una delle tante cose che accade che quando finiscono le storie, le relazioni tra due persone, che il detentore di questo materiale ricatti la persona tentando soprattutto di continuare il rapporto anche in tempi successivi, anche dopo, e bloccare il partner in un rapporto non voluto, anche utilizzando quest'arma. Questo è un classico purtroppo. quindi in realtà teoricamente si dovrebbe stare attenti anche al partner di cui tu hai fiducia totale. Lei si ricorda a Tiziana Cantone, quella ragazza di Mugnano? Si è suicidata e lei ha seguito il fidanzato, mi pare. E' un caso estremamente... No, no, questo è un caso particolarissimo. Particolarissimo perché lei per la vergogna si è uccisa. Questo è un caso particolarissimo che non fa testo. Nel senso che... No, non fa testo nel senso che... La mamma ha detto siamo tutte Tiziana Cantone su internet. Quello che è accaduto in quel caso non è un comportamento rappresentativo della normalità dei casi. Questo intendo dire nel senso che quei comportamenti che sono stati tenuti sono comportamenti poco rappresentativi della normalità. Nel senso che c'è un processo in corso, quindi non entrerò nell'argomento. Però sostanzialmente sono dei casi estremi. Casi estremi legati al... Spero siano estremi, nel senso che tendenzialmente non dovrebbero essere diffusi. Sono legati al fatto che ci sono delle persone, palesemente, che hanno dimestichezza, accesso o abitudine a divulgare immagini, tendenzialmente dovrebbero essere immagini coperte, nel senso che qui non sono identificabili i soggetti, in siti di scambisti, tra virgolette, cosiddetto. Quindi scambisti, ovvero di siti dedicati a questo. Quindi chiaramente nel momento in cui ci si lancia in queste dinamiche, ognuno sceglie come appagare i propri interessi, le proprie volontà. Ognuno è libero di scegliere cosa fa piacere o cosa non fa piacere, quindi ognuno è libero di fare queste scelte. È chiaro che quando si entra in circuiti di questo tipo, il pericolo è cento volte superiore, ma non è rappresentativo perché la normalità dei casi non è questo. La normalità dei casi è che le persone si fidano delle altre persone, hanno dei rapporti intimi o amorevoli con altre persone e quindi consegnano loro delle foto intime. Quando ciò accade, si pone un rischio, perché si mette parte di sé in mano ad altri. Nel momento in cui si mette parte di sé in mano ad altri, si perde il controllo. Perdendo il controllo, perdendo il controllo, ovviamente può accadere qualsiasi cosa, nel momento in cui la persona voglia ricattare o sia adirato, ovvero voglia semplicemente anche dileggiare un'altra persona. Certamente. E quindi diventa pericoloso. L'avviso ai giovani bisogna farlo. Quindi l'abbiamo fatto ai giovani. Assolutamente bisogna stare attentissimi. Ai telefonini, alla rete, sono cose importanti. Le violenze incominciano fin da piccoli e sui minori, incominciamo dall'asilo e meno male che ci sono mamme che denunciano, ci sono le telecamere, le violenze sono infinite. Noi a Napoli abbiamo baby gang, baby boss, sono la parte aggressiva. Ma molti dicono, Edoardo De Filippo pure lo diceva, anche quelli sono deboli, sono vittime, sembra impossibile, anche quelli sono vittime delle carenze sociali. sono violenti, sono baby boss. E Camorra, diciamo, oggi la criminalità organizzata si basa soprattutto molto sulle donne e sui minori. Però anche quei minori, diceva De Filippo, sono costretti a deviare dalla giusta via per carenze sociali. Quindi anche quelli possono essere deboli? I minori sono tutti deboli, sono per definizione tutti deboli e per niente tra i 14 anni non sono imputabili. Ma i danni li fanno lo stesso, 14-15 anni, 13 anni? I minori non sono mai responsabili, perché sostanzialmente la loro azione è etero-diretta, anche quando agiscono in apparente consapevolezza della relazione, in realtà non ce l'hanno. Quindi sostanzialmente non lo sono mai, non sono mai responsabili. Quindi, presmesso questo, è chiaro che adesso i minori sono molto svegli, molto pronti a ricepire troppi falsi messaggi o messaggi forbianti, o chiaramente messaggi che anche qui risentono di quella che è l'ambiente. È la realtà circostante. Perciò anche questi baby boss possono essere considerati dei deboli, cioè delle vittime, delle carenze sociali. Baby boss sono minori, sono tutte persone da tutelare, da proteggere. Si spera di poterlo fare in tempo, che non siano formati troppo già alla loro personalità, ma essendo minori, tutti i minori possono essere salvati, tutti. E si tratta semplicemente di poter o agire, ovviamente togliendo quella che è la responsabilità genitoriale, a chi non se la merita, questo è chiaro. Quei ragazzi che vivono, nascono nelle famiglie di criminali, che sono quasi sempre costrette a fare il lavoro dei genitori, ossia impacchettare la droga o fare qualche altra cosa. Quindi l'allontanamento è una cosa giusta. È chiaro che nel momento in cui noi abbiamo anche, noi procura Santa Maria Capovedere, come in tanti altri procure, comunque per quanto riguarda la tutela dei minori, sottolineavo questo, nell'anno e lo scorso anno sono state avanzate e praticamente quasi tutte ottenute, 130 misure cautelari personali a tutela dei minori. 130 in un anno sono veramente tante. e noi abbiamo dei protocolli proprio volti a valorizzare quelli che sono gli elementi tratti dalle indagini significative e dimostrative e quindi comunicare alla procura dei minorenni per le loro iniziative volte a attivare la decadenza della patria potestà, ovvero della potestà genitoriale, per la precisione, ovvero misure assimilabili. Quindi perché l'inevitabile azione è quella rispetto ai minori laddove ci sia una palese inadeguatezza dei genitori. Non parlo qui del caso che dice lei, cioè dello sfruttamento addirittura a fini economici criminali del minore proprio in relazione al fatto che non è imputabile o semi imputabile e quindi fargli apporgere le attività più pericolose di un'attività criminale come per esempio quello del pusher, ovvero l'attività di vedetta nella cessione di stupefacenti che è un'attività tipica che viene fatta fare ai minori proprio perché in realtà presenta, farla coprire da loro, i ruoli affidabili a loro presenta minor rischi dal punto di vista della tazione penale. Quindi questi sono casi proprio chiaramente in cui laddove accada è auspicabile ovviamente che venga tolta la potestà genitoriale ai genitori che sfruttano minori di questo tipo, quindi questo è chiaro. Però anche in altri casi, da dove dovesse emergere elementi indicativi di una inadeguatezza dei genitori, si trasmettono questi dati affinché proprio venga valutato dal Tribunale dei minorenni e procura quindi poi al Tribunale dei minorenni quella che è la decadenza della potestà genitoriale in questi casi quindi è quella l'unica tutela e chiaramente la tutela migliore è questa. L'antesignano è stato il procuratore Caffiero De Rao che lo sperimentò per primo in Reggio Calabria. Lei si occupa anche... Questa è una questione ancora più ampia perché nel senso che si tratta proprio di un problema legato alla inadeguatezza da parte di mafiosi della figura genitoriale al di là dello sfruttamento meno del minore cioè nel senso è ancora più complicato nel senso che è un ottimo tentativo, un'ottima prospettiva ma non è agevole laddove non ci siano dei segni tangibili di consapevolezza da parte del minore delle attività svolte dai genitori criminali non è agevolissimo però è importante è fondamentale però non è facile non è facile riuscire a giungere alla decisione a far decadere la potestà genitoriale al di là di sanzioni accessorie, penali in relazione a condanne molti fatti molto gravi e poterlo fare sulla inadeguatezza legata a una tendenza a delinquere particolarmente significativa da parte dei genitori laddove non si abbia la consapevolezza della prova della consapevolezza da parte dei figli è certo lei si interessa anche di reati per redatori una delle ultime scoperte è stata quella di quei ladri che chiudevano cioè aprivano le macchine cioè spiegavano ai nostri telespettatori c'erano dei genitori che al giorno d'oggi si sa i genitori vogliono portare i figli a scuola e salire possibilmente anche con la macchina nella scuola proprio sulle scale e allora portavano i figli a scuola e chiudevano naturalmente col telecomando fatto sta che quando ritornavano puntualmente trovavano la macchina ripulita e la cura e i carabinieri si domandavano ma questi come fanno? lei l'ha scoperto questo fatto? l'indagine della procura della Repubblica non io personalmente la procura della Repubblica ha fatto questa indagine ha fatto questa indagine e diceva come vai? trovavano nessuna infrazione alle portiere delle macchine tutto perfetto all'interno tutto è sparito insomma come usavano i dissuasori erano sostanzialmente dispositivi i jammer come si chiama? sostanzialmente benché la persona apparentemente avesse chiuso la vettura con il dispositivo a distanza in realtà neutralizzava questo sistema quindi la persona pensava di averla chiusa la macchina ma in realtà non l'aveva chiusa e quindi sostanzialmente la macchina rimane aperta comunque a prescindere da questo anche se non mettevano la macchina in doppia fila la parcheggiavano bene in ogni caso sarebbero stati ugualmente derubati a presso il fatto che erano sempre non è detto che dovessero parcheggiare direttamente dentro la scuola non è questo però era indicativo l'orario l'orario di scuola 8 e mezza, 9 e mezza loro chiudevano e quelli altri andavano e aprivano è una situazione quasi è una questione di minorata difesa credo che tutti abbiano esperienza del momento dell'accompagnamento dei bambini e certamente siamo in una situazione ai limiti della minorata difesa per quanto riguardava il derubato perché dover contemporaneamente portare il bambino a scuola a custodire lo vigilato e contemporaneamente pensare anche a custodire i beni che stanno in macchina che non hanno un valore ridicolo rispetto a quello che è il valore del proprio figlio è chiaro che contemporaneamente tutto questo è abbastanza arduo da pensare è una cosa nagicomica allora i reati predatori quelli là, i reati furti diciamo in appartamento sono condotti con grande violenza ci sono i proprietari non ci sono giorno, notte si entra e si menano di brutto lei è romano si menano di brutto si dice così è romano forse mi sono dimenticato ah dimenticato fa come decrescenzo sta modificandosi il decrescenzo una volta si diceva così dove abiti tu dici nella periferia a Roma sono a Napoli ma abito nella periferia a Roma e quindi e meno di brutto parliamo del decreto sicurezza secondo lei diciamo il diritto alla difesa c'è sempre il presidente del CSM dice così dice bisogna tenere presente il problema della proporzionalità perché certo se io sono un po' così do uno schiaffo a una persona e quella persona alla quale do lo squadro è un po' fumina mi caccia la pistola mi spara non c'è proporzione e quindi si finisce con il giustificare anche l'omicidio lei che cosa ne pensa il diritto alla difesa allora ci difendiamo ci mettiamo la pistola sotto il cuscino io ho paura e non la posso usare no 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 io ho paura e non la uso ci sono delle regole elementari che bisogna considerare le regole elementari sono queste sì la vittima tendenzialmente di un furto persona tendenzialmente onesta difficilmente avrà un'abilità e una capacità e lucidità in certi momenti di poter sparare questo al di là delle norme che vi sono in vigore quindi nella sostanza starà in una situazione palesemente sproporzionata sia per sua abilità sia per sua lucidità sia per sua caratteristiche comportamentali se c'è pure il grave turbamento poi ora se no se volevo dire questo come si fa se un ladro sa che si potrà trovare di fronte a una persona potenzialmente armata che può anche quasi legittimamente sparare si comporterà conseguentemente in modo cautelativo quindi andrà a fare lo stesso furto che faceva prima a mani nude tentando di immediatamente di leguarsi laddove fosse scoperto c'è il rischio elevato che andrà a farlo armato quindi dal punto di vista del pericolo non c'è dubbio che in un'ipotesi in cui una persona agisce delinquendo pensando all'ipotesi che la persona la vittima possa essere armata andrà con modalità tali da essere sicuro di poter sopraffare la vittima e quindi 10 a 1 sostanzialmente chi potrà perdere la vita sarà la vittima quindi qualsiasi tipo di norme che facilitano tra virgolette la difesa e quindi amplificano la possibilità di disporre di armi e di utilizzarle vedranno contemporaneamente accentuati i comportamenti criminali dei coloro che depredano e tristemente come accade nel far west dove si giunca il far west vincerà sempre quello che è più bravo a sparare allora il brutto e il cattivo e allora queste norme qui anziché dovremmo arrivare al contrario cioè a ridurre completamente quasi eliminare l'uso delle pistole le pochissime pistole o armi possono essere detenute legalmente pochissime pochissimi casi persone specializzate persone capaci di poter gestire l'uso dell'arma ricordo a tutti che l'arma non può essere tenuta sotto il cuscino chi ha la detenzione legale dell'arma deve custodirla in un modo tale per cui nel momento in cui dovesse entrare un ladro in casa non hai alcuna possibilità di arrivare a prendere l'arma perché l'arma sarebbe conservata in un modo tale per cui ci metti 10 minuti a prendere l'arma quindi sostanzialmente l'arma alla fine se deve essere utilizzata e volesse utilizzata dovrebbe essere costituita in modo inadeguato costituire un'arma in modo inadeguato vuol dire che aumenterebbero enormemente le volte in cui per esempio la moglie verrebbe uccisa in un momento d'ira aumenterebbe enormemente i casi in cui il bambino si prende l'arma mal custodita e spara il genitore o si uccide o ammassa l'amichetto quindi sostanzialmente ci sono una serie di conseguenze negative sull'eventuale prolificazione dell'uso dell'arma che sono inimmaginabili tra cui anche l'aumento delle uccisioni e trasformazioni dei furti in rapine con l'uccisione della vittima perché chiaramente la persona il rapinatore a questo punto saprà che quello potrà magari eventualmente utilizzare l'arma con maggior facilità e agirà conseguentemente per prevenire questo pericolo e quindi renderà cercherà di rendere ancora più efficace la sua azione inoffensiva la persona ricordo a tutti una cosa che forse nessuno sa ma una volta le rapine venivano fatte semplicemente con intimidazione la persona si arrendeva consegnava i propri averi intimidazione armato o altro e non succedeva nulla dal punto di essere l'incolumità a un certo punto i rapinatori hanno cominciato a capire che le persone le vittime potevano riconoscerli o potevano reagire e quindi hanno cominciato a fare rapine così facendo senza nessuna minaccia preventiva spaccavano il naso alle vittime quindi la vittima veniva resa impotente veniva derubata avevano due vantaggi con questa dinamica adesso non so se questa dinamica posso dirla in televisione però è abbastanza noto avevano due vantaggi in questa dinamica una che la persona non si può difendere due che veniva perquisita e derubata tutto quello che aveva il terzo vantaggio fondamentale che neanche lo riconosceva perché non aveva neanche avuto il modo di avere un contatto visivo ora è chiaro che purtroppo il crimine si muove con criteri di proporzionalità quando si aumenta il rischio di essere scoperti e le conseguenze di essere scoperti il criminale letteralmente professionista tra virgolette professionista adegua la propria azione al pericolo quindi si è passati da traverete rapine incruente a rapine molto cruente a per esempio rapine nelle abitazioni in cui vengono le persone picchiate selvaggiamente preventivamente così che non dicono immediatamente dove sono gli averi riducendo i tempi di permanenza all'interno delle case che è una situazione pericolo riducendo le possibilità che la stessa persona non dica dove sta la casaforte e quindi praticamente rendendo la rapina la stessa rapina in abitazione che aveva modalità magari gravissima meno cruente estremamente cruenta quindi ogni volta che si tocca qualche norma bisogna sempre pensare alla fenomenologia certo e certamente quello che io penso è che dovrebbe essere sempre più limitato l'uso dell'arma da fuoco assolutamente rendendola residuale e laddove venga colta una persona che ha detiene abusivamente illicitamente un'arma da fuoco dovrebbe subire un trattamento sanzionatorio adeguato in modo tale da scoraggiare anche anche dal punto di vista preventivo quello che è l'uso la detenzione dell'arma da fuoco che normalmente è prodromica a un suo uso quindi in pratica anticipare quella che è la sanzione di quello che sarebbe il successivo uso alzando quelle che sono le pene dell'arma da fuoco il problema è che siamo anche noi siamo un paese che produce armi da fuoco c'è poco da fare e quindi chiaramente questo tipo di intervento normativo riduttivo della diffusione dell'arma da fuoco in Italia è contrastante quella che è l'interesse economico produttivo dell'arma da fuoco quindi si preferisce passare a una logica di suggerire un eventuale maggior uso difensivo dell'arma da fuoco un perfetto perverso che porterà sostanto al maggior numero di morti e che sarà comunque tendenzialmente un incremento che sarà a scapito delle vittime sicuramente il rapinatore con questa legge non si presenterà più con la pistola c'è il rischio che venga quella finta perché molti vanno con quella finta esattamente ad esempio la pistola giocattolo la pistola giocattolo tendenzialmente dovrebbe essere abbandonata sicuramente sarà abbandonata allora io concluderei la nostra intervista non so se per lei è stata pesante per me no per me no certamente spero utile per i telespettatori siete stati ricevuti prima di concludere dal Papa lei ci è andato la conclusione l'associazione nazionale magistrate è stato consolidato il concetto di giustizia il valore della giustizia ha detto il Papa che è una cosa importantissima la giustizia perché come ha detto la società non può stare giustamente senza la giustizia è come una porta che non si apre non si apre più rimane bloccata e quindi ha sostenuto ha detto tutti dobbiamo sostenere il valore della giustizia che è importantissimo devo dire che noi siamo uno stato necessariamente laico perché siamo indotti giustamente alla conclusione estra al di là se uno lo sia intimamente o no però il Papa Francesco è una figura fondamentale in questo momento che deriva dei valori umani e quindi è veramente una figura fondamentale per chiunque ha esaltato il valore dei magistrati e maggiormente per chi non crede nel senso che deve essere riconosciuto da tutti in particolare anche da chi non ha fede in nessuna confessione religiosa è un valore eccezionale del Papa Francesco è certo allora io la ringrazio noi la ringraziamo della sua presenza ci auguriamo di rivederla presto che le che le posso dire la ringrazio di tutto cuore veramente perché so che lei è diciamo carattere l'abbiamo detto un po' riservato però devo dire la verità è stato molto loquace quindi vuol dire che si è sentito a suo agio è vero allora io la ringrazio ci vediamo presto a rivederci a rivederci a rivederci